Apertura straordinaria di una parte della Prandina come parcheggio durante le feste natalizi e quindi la chiusura per decidere cosa farne attraverso un percorso condiviso con i cittadini. Le recenti dichiarazioni uscite da Palazzo Moroni hanno scatenato le polemiche di chi le ha viste come una messa in discussione dei posti auto che qui sono attesi da tempo. E quello sul futuro della Prandina si candida a tema caldo del dibattito cittadino di quest'inverno. È un'anima, una componente ambientalista assai forte in coalizione civica e non si capisce perché non si voglia realizzare un parcheggio vicino alle mura che libererebbe tra l'altro un sacco di traffico. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Michalizzi che il 28 maggio aveva aperto l'ex caserma assieme all'assessore al commercio Antonio Bressa per un sopralluogo con le associazioni di categoria a gettacqua sul fuoco. Le dichiarazioni arrivate da coalizione civica non aggiungono niente di nuovo, afferma. Il parcheggio non sarà chiuso dopo le festività natalizie perché il comune ha cambiato idea, ma perché non gode ancora di quella piena disponibilità che ne permetterebbe i necessari lavori di restauro, così come il percorso condiviso con i cittadini sulle destinazioni d'uso dell'ex struttura militare sono state da sempre nei programmi dell'amministrazione comunale. In Corso Milano e in Piazza Insurrezione intanto l'arrivo di nuovi parcheggi sarebbe preso come una liberazione dal traffico. Eh, sarebbe ora. Fare che cosa? È uno spazio per il parcheggio, no? È difficile parcheggiare. È molto difficile. Il discorso della caserma Prandina è molto grande, risolverebbe moltissimo il problema e tanta gente che vuole venire in centro può posteggiare lì, fa Corso Milano ed è già sulle piazze. Quindi almeno una parte, se non del tutto, ma almeno una parte, dedicarla a parcheggi. Perché inizialmente si parlava di un numero anche abbastanza, però adesso mi sembra che è stato ridimensionato. Se fanno dei parcheggi ben vengono perché chiaramente diciamo è meglio. Fai un giardino, fai un parcheggio, fai qualcosa, vuoi lasciare la roba a marcia? Fai un giardino, fai qualcosa, vuoi lasciare la roba a marcia? Fai un giardino.